Ciao a tutti e benvenuti su Touch Gaming. In questo video voglio parlarvi di queste cuffie Panasonic, cuffie Bluetooth che possono essere utilizzate per la riproduzione musicale, ma anche per dialogare dallo smartphone o da altri dispositivi. Naturalmente non è un headset per console, ma se lo utilizzate con lo smartphone potete rispondere ad una chiamata, chiudere la chiamata e naturalmente parlare con l'interlocutore perché è presente un microfono integrato. Le cuffie sono Bluetooth, quindi una volta che avete attivato il Bluetooth sullo smartphone potete utilizzarle fin da subito. Come vedete su uno dei padiglioni, a destra o a sinistra, dipende da come le indossate, è presente una serie di pulsanti. Abbiamo il pulsante per la riproduzione dei brani, come potete vedere, potete mettere quindi in play o in pausa, potete rispondere ad una chiamata o attaccarla, avete la possibilità di regolare il volume, il pulsante per accendere e spegnere le cuffie e sincronizzarle via Bluetooth e naturalmente la porta USB per la ricarica. Con una sola carica potete fare fino a 24 ore di riproduzione continua e diciamo la particolarità di queste cuffie è che supportano il quick charge, cioè la ricarica rapida, quindi nel giro di poco tempo si ricaricano completamente. Dovrebbe impiegare un'ora e qualcosa, sinceramente non ho avuto modo di cronometrare, però vi posso assicurare che si ricaricano velocemente. Le cuffie sono molto piccole, infatti hanno un driver di 40, come potete vedere, sono davvero piccoline, però naturalmente sono imbottite, sono comode da indossare, ve lo posso assicurare, e sono regolabili tramite gli appositi supporti laterali. Anche se personalmente avrei optato per supporti differenti, perché diciamo sono leggermente duri da premere, cioè duri da estendere e ridurre, però se le indossate vi accorgerete che sono facilmente regolabili. Le cuffie vengono, diciamo, vendute con naturalmente il cavo USB per ricaricarle, però non c'è un alimentatore, quindi dovrete collegarle ad un alimentatore esterno, al vostro PC, a una console, ad una qualsiasi fonte elettrica, naturalmente compatibile per la ricarica delle cuffie. Le cuffie sono, diciamo, molto comode da indossare, come vi ho appena detto, sono molto compatte, sono molto leggere, quindi sarà come non indossarle. Possono essere usate sia per la riproduzione musicale, sia per le conversazioni, e potete acquistarle su Amazon ad un costo di circa 70€. Ora, naturalmente, ci stiamo avvicinando al Black Friday, quindi potrebbe anche calare il costo. La qualità audio non è elevatissima, ma è davvero buona. Dipende poi che cosa cercate. Se volete, magari, delle cuffie da gaming che restituiscono un audio eccelso, allora naturalmente vi consiglio di puntare altrove, ma se siete alla ricerca di un paio di cuffie di ottima qualità per la riproduzione della vostra musica in mobilità, allora vi consiglio queste cuffie perché, oltre ad essere leggere e compatte, quindi facilmente trasportabili, sono comode da indossare e la qualità audio di queste cuffie è davvero ottima per come, diciamo, sono state prodotte. Poi, naturalmente, parliamo sempre di Panasonic e, come sapete, Panasonic è uguale qualità, soprattutto per quanto riguarda, appunto, la riproduzione musicale. Se siete interessati all'acquisto di queste cuffie, trovate il link Amazon nella descrizione che ho pubblicato su techgaming.it.